1987, Palermo, Aula Bunker, si conclude il primo maxiprocesso alla mafia 1942, Himmler ordina la deportazione di tutti gli zingari che vivono in Germania 1944, discorso di Mussolini al teatro lirico di Milano, ultima apparizione pubblica commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire la rivoluzione più cruenta mentre cadeva la cortina di ferro, di Michoara 1989 16 dicembre 1941, nasce l'attore Vittorio Mezzogiorno, interprete teatrale, televisivo e cinematografico vince nel 1978 e nel 1981 la Coppa Volpi con Il Giocattolo e con Tre Fratelli protagonista di numerose serie televisive, Mezzogiorno per il grande pubblico è l'ispettore di polizia Davide Licata che sostituisce il commissario Cattani nella piazza 16 dicembre 19...